capitolo dodicesimo nel quale il lettore sarà in grado di seguire lo sviluppo dell'amore della signorina fanny e accertarsi se si svolgesse tranquillamente o no fu una fortuna per la signorina fanny squeers che il suo degno papà tornando a casa la sera del famoso tè fosse ciò che gli iniziati dicono ben cotto e così cotto da non accorgersi dei numerosi indizi di estrema irritazione che le si vedevano chiaramente in viso però siccome dopo che aveva levato il gomito e gli era piuttosto di una violenta irascivilità non era impossibile che potesse sfogarsela con lei o per quella o per qualche altra fantastica ragione ma la signorina aveva con una preveggenza e una prudenza veramente commendevoli tenuto in piedi un ragazzo a bella posta per fargli sopportare il primo urto di collera di quell'ottimo galantuomo il quale dopo che si fu sfogato con una bella varietà di calci e di scapaccioni si calmò abbastanza perché si potesse persuadere ad andare a letto cosa che fece con tutte le scarpe e l'ombrello sotto il braccio la fantesca famelica accompagnò secondo il solito la signorina squirse nella sua stanza per arricciarle i capelli compiere gli altri minuti servigi dell'abbigliamento e somministrarle tante adulazioni quante ne poteva mettere insieme perché la signorina squirse era abbastanza pigra e sufficientemente vana e frivola inoltre da poter essere una donna elegante e ne era soltanto impedita dalla distinzione arbitraria esistente dei gradi e delle classi come sarricciano bene i vostri capelli stasera signorina disse l'ancella è proprio un peccato pettinarli taci rispose la signorina squirse i rosa l'esperienza precedente impediva alla fantesca di sorprendersi per qualunque scoppio di collera da parte della signorina squirse avendo una mezza idea di ciò che era accaduto nel corso della serata mutò la maniera di farsi gradita e attaccò l'argomento per via indiretta bene ve lo debbo dire anche se mi ammazzate disse l'ancella non ho mai visto una persona più volgare della signorina price stasera la signorina squirse sospirò e si mise in atteggiamento d'attenzione so che faccio male a dirlo signorina continuò la ragazza incantata dall'impressione che stava facendo perché la signorina price ve amica e che so io ma essa va in giro così vestita in un certo modo per farsi notare che oh bene se le persone si vedessero che intendi fib chiese la signorina squirse guardandosi in uno specchietto dove come la maggior parte di noi vide non se stessa ma una piacevole immagine del proprio cervello come parli come parlo signorina ce n'è abbastanza da far parlare il francese a un gatto soltanto a vedere come essa muove la testa rispose l'ancella muove la testa ripete la signorina squirse con l'aria distratta è così vana e poi è tanto tanto brutta disse la ragazza povera tilde sospirò la signorina squirse con commiserazione e si mette sempre in modo da farsi guardare continuò la fantesca o poveretta d'una indiscrezione veramente non ti posso permettere di parlare a codesto modo fib disse la signorina squirse tilde è d'una famiglia volgare e se non è più educata la colpa non è sua ma della famiglia bene ma voi sapete signorina disse febea che era abbreviata in fib con un diminutivo di condiscendenza che se essa volesse soltanto imitare un'amica se soltanto conoscesse il suo errore e si mettesse a far bene accanto a voi col tempo che bella ragazza che potrebbe diventare fib soggiunse la signorina squirse con aria maestosa non è bene per me sentir questi paragoni essi fanno apparire tilde una persona rosa e grossolana non è carità d'amica stargli ad ascoltare è meglio che parli di qualche altra cosa fib nello stesso tempo devo dire che se tilde price volesse prendere a modello qualche altra non dico me particolarmente ah sì proprio voi signorina interruppe fib bene me fib se così vuoi disse la signorina squirse devo dire che se lo facesse le gioverebbe molto se non mi sbaglio qualche altro la pensa allo stesso modo disse con aria di mistero la ragazza che vuoi dire domandò la signorina squirse non ci badate signorina rispose la ragazza so io quel che mi dico ecco tutto fib disse la signorina squirse con tono drammatico insisto perché ti spieghi che cosa significa questo mistero parla ebbene se volete saperlo signorina si tratta di questo disse la ragazza il signor giovanni braudi la pensa come voi e se non si fosse spinto troppo innanzi per potersi disdire sarebbe lieto di romperla con la signorina price e annodare con la signorina squirse bontà del cielo esclamò la signorina squirse giungendo le mani con gran dignità che cosa dici la verità signorina è nient'altro che la verità rispose la scaltra fib in che condizione mi trovo esclamò la signorina squirse sul punto di distruggere inconsapevolmente la pace e la felicità della mia cara tilde qual è la ragione perché gli uomini si innamorino di me sia che io lo voglia o no e abbandonino per amor mio quelle che s'erano scelte perché non possono farne a meno signorina rispose la ragazza la ragione è semplice se la signorina squirse era la ragione essa era davvero assai semplice non lo dire più ribatte la signorina squirse mai più hai capito tilde price ha dei difetti molti difetti ma io non le auguro che bene e specialmente che si mariti perché credo che sia necessario più che necessario per la natura stessa dei suoi difetti che si mariti al più presto possibile no fib che si piglie il signor braudi lui posso compiangerlo poveretto ma io voglio molto bene a tilde e m'auguro soltanto che ella riesca una moglie migliore di quel che io possa pensare con questa espansione di affetti la signorina squirse si mise a letto dispetto è una paroletta ma rappresenta un misto così strano di sentimenti e una miscela di idee così discordi che nessun'altra parola più la signorina squirse sapeva benissimo nel suo intimo sacrario appunto come la miserabile fantesca che ciò che questa aveva detto non era che pura grossolana e bugiarta adulazione pure la semplice opportunità di sfogare un po di rancore contro l'offesa della signorina price e di affettar di compatire i suoi difetti e le sue debolezze benché solo in presenza ad una spregevole dipendente dava tale temperamento alla propria esacerbazione da sembrarle quasi che ciò che era stato detto fosse puro vangelo anzi meglio noi abbiamo tali poteri straordinari di persuasione quando li esercitiamo su noi stessi che la signorina squirse si sentì assolutamente generosa e magnanima dopo la sua rinuncia alla mano di giovanni braudi e considerò la rivale dall'alto d'una certa santa calma d'una certa santa tranquillità che ebbe un potente effetto di lenimento nello scompiglio di tutti i suoi sentimenti una felice condizione di spirito questa che contribuì molto al risultato di una riconciliazione poiché quando il giorno dopo si sentì un colpo alla porta di strada e fu annunciata la figlia del mugnaio la signorina squirse si recò nel salotto in una disposizione d'anima cristiana veramente edificante bene fanni disse la figlia del mugnaio tu vedi che son venuto a trovarti benché ieri si ancorse delle parole fra noi io compatisco i tuoi cattivi trasporti tilde rispose la signorina squirse ma non ti porto rancore è cosa che non mi tocca sei buona fanni disse la signorina price son venuta a dirti qualche cosa che so ti farà piacere che cosa potrà essere tilde domandò la signorina squirse appuntando le labbra e assumendo un atteggiamento di indifferenza come se nulla al mondo l'aria il fuoco l'acqua potesse arrecarle il minimo barlume di soddisfazione questo soggiunse la signorina price dopo che noi ci lasciamo ieri sera giovanni e io ci siamo terribilmente bisticciati è una cosa che non mi può far piacere disse la signorina squirse pure sciogliendosi in un sorriso cielo non penso tanto male di te da supporre una cosa simile soggiunse la compagna non è questo esclamò la signorina squirse ritornando melanconica continua dopo esserci dette un monte di cose da una parte dall'altra dichiarando che ci saremmo lasciati continuò la signorina price ci rappacificammo e questa mattina giovanni è andato a dichiarare i nostri nomi per le pubblicazioni che si faranno la prima volta domenica così fra tre settimane saremo sposati e io sono venuta a dirtelo perché tu ti faccia fare l'abito vera del fiele misto al miele in questa notizia la prospettiva che l'amica si sarebbe sposata così presto era il fiele e la certezza che essa non aveva fatto dei disegni seri su nicola era il miele dopo tutto il dolce preponderò molto sull'amaro e la signorina squirse disse che avrebbe ordinato l'abito e che sperava che tilde sarebbe stata felice benché nello stesso tempo lei fan nì non sapesse e non potesse far gran fondamento su di questo perché gli uomini erano degli esseri strani e molte donne maritate erano molto infelici e s'auguravano con tutto il cuore d'essere ancora zitelle a queste condoglianze la signorina squirse ne aggiunse altre intese parimenti a sollevar lo spirito e ad alimentare la gioia dell'amica ma su fanni disse la signorina price è bene dir qualche cosa intorno al signor nickelby lui non mi interessa la interruppe la signorina squirse con grandi indizi di nervosità tu non immagine quanto io lo disprezzi o tu non dici sul serio vero rispose l'amica confessa fanni se tu non li vuoi bene di senza rispondere direttamente la signorina squirse scoppiò a un tratto in un accesso di lacrime di dispetto ed esclamò che essa era un miserabile triste infelice rifiuto io odio tutti disse la signorina squirse e vorrei che tutti fossero morti tutti poveretta me poveretta me disse la signorina price assolutamente commossa da questa dichiarazione di misantropia tu non dici sul serio certo sì sul serio soggiunse la signorina squirse legando dei nodi molto stretti nel suo fazzoletto da tasca e imprimendovi i denti e vorrei che anch'io fossi morta ecco a fra cinque minuti la penserai diversamente disse matilde quanto sarebbe meglio conciliarti di nuovo con lui che rovinarti la salute continuando a codesto modo ora non sarebbe molto meglio di averlo tutto per te in termini di buona relazione facendoti compagnia corteggiandoti divertendoti in qualche modo io non so che sarebbe singhiozzò la signorina squirse ah tilde come hai potuto comportarti in maniera così vile e disonorevole se qualcuno me l'avesse detto non avrei mai creduto a una cosa simile da parte tua ahimè esclamò la signorina price con una risata si crederebbe che io avessi ammazzato qualcuno al più poco quasi quasi disse la signorina squirse con ira e tutto questo perché ho la fortuna di essere abbastanza bella perché la gente mi si mostri ossequente esclamò la signorina price la gente la faccia non se la fa da sé non è colpa mia se io l'ho bella appunto come non è colpa loro se le altre l'hanno brutta taci strillò nel tono più acuto la signorina squirse altrimenti mi costringerei a graffiarti tilde e dopo me ne troverei pentita è inutile dire che a quel punto il carattere di ciascuna delle due signorine si trovò in qualche piccolo grado influenzato dal tono della conversazione e che un tratto di personalità venne infuso nell'alterco che ne seguì veramente il litigio da lievi principi salì a una notevole altezza e stava assumendo già un colorito violento quando le due parti scoppiando in un gran fiotto di lacrime esclamarono nello stesso tempo che non avevano mai e poi mai immaginato di sentirsi dire parole simili esclamazione questa che conducendo a una rimostranza originò gradatamente una spiegazione col risultato che le due caddero l'una nelle braccia dell'altra giurandosi eterna amicizia e raggiungendo così in un anno la 52esima ripetizione della stessa solenne cerimonia ristabilita così la loro perfetta amicizia seguì naturalmente un dialogo sul numero alla natura degli indumenti indispensabili all'ingresso della signorina price nel santo stato matrimoniale e allora la signorina squeers mostrò chiaramente che molti più di quanti ne avrebbe avuto e ne avrebbe potuti avere erano assolutamente necessari e non si potevano decentemente trascurare la signorina squeers allora con un'abile digressione fece cadere il discorso sulla propria guardaroba e dopo essersi diffusa alquanto sulle sue principali bellezze condusse l'amica di sopra ad esaminarle dopo aver sfoggiato il tesoro di due canterani ed un armadio e dopo che tutti i più piccoli oggetti furono indossati era già ora per la signorina price di tornare a casa ma siccome si era estasiata innanzi a tutto ciò che le era stato mostrato ed era rimasta addirittura sbalordita da una nuova sciarpa color rosa la signorina squeers annunziò con gran buon umore che desiderava ad accompagnarla un po per il piacere di stare insieme e uscirono tutte e due e la signorina squeers in cammino si diffuse sui meriti del padre e moltiplicò per dieci i suoi guadagni per far apprezzare all'amica l'importanza e la superiorità della propria famiglia accadde che proprio quell'ora la quale comprendeva il breve quotidiano intervallo che si permetteva passasse fra ciò che con piacevolezza si chiamava il desinare degli allievi del signor squeers e il loro ritorno all'apprendimento delle cognizioni utili fosse proprio la stessa in cui nicola era solito uscire a far quattro passi di una melanconica passeggiata e a meditare gironzando senza scopo per il villaggio sulla sua miserabile sorte la signorina squeers sapeva benissimo questo ma forse l'aveva dimenticato perché quando scorse il giovine che s'avanzava verso di loro mostrò molti segni di sorpresa e di costernazione e assicurò l'amica che avrebbe voluto trovarsi sotto terra vogliamo ritornare indietro rifugiarci in una casa chiese la signorina price egli non c'ha ancora vedute no tilde rispose la signorina squeers è mio dovere di andare in affondo e ci andrò siccome la signorina squeers disse questo col tono di chi piglia una grave risoluzione morale ed era salita inoltre da una specie di soffocazione e da un arresto di respiro indizio di sentimenti ad alta pressione l'amica non disse più nulla e continuarono dritte verso nicola che camminando con gli occhi bassi non si accorse del loro avvicinarsi che quando furono a qualche passo di distanza altrimenti forse avrebbe pensato a svegnarsela lui buongiorno disse con un inchino nicola allontanandosi se ne va mormorò la signorina squeers io soffro tilde ritornate signor nickelby ritornate esclamò la signorina price affettando di credere al pericolo dell'amica ma in realtà spinta dal malizioso desiderio di sentire ciò che avrebbe detto nicola ritornate signor nickelby il signor nickelby ritornò e apparve più impacciato che mai mentre domandava alle signorine se avessero ordini da dargli non vi fermate a parlare lo sollecitò la signorina price in fretta ma sostenetela dall'altro lato ora come ti senti cara meglio sospirò la signorina squeers poggiando un cappellino di castoro rossiccio attorniato da un velo verde sulla spalla di nicola questa mia sciocca debolezza non la chiamare sciocca cara disse la signorina price e l'occhio scintillante le danzò di gioia osservando l'impaccio di nicola tu non hai nessuna ragione di vergognarti no sono quelli troppo orgogliosi da ravvedersi francamente che dovrebbero vergognarsi voi siete risoluta quanto pare di prendervela con me disse con un sorriso nicola benché vabbia detto ieri sera che io non c'ho colpa ecco dice che non ne ha colpa cara osservò malvagiamente la signorina price forse tu sei stata troppo gelosa o troppo precipitata con lui dice che non ne ha colpa hai sentito credo che questa scusa basti voi non mi capite disse nicola per piacere non continuate con questi scherzi perché io non ho tempo e neppure alcuna volontà appunto in questo istante di essere argomento o cagione di spasso che cosa dite chiese la signorina price affettando un tono di meraviglia non glielo chiedere tilde esclamò la signorina squeers io gli perdono poveretto me disse nicola mentre il cappellino rossiccio gli si inclinava di nuovo sulla spalla è cosa più grave di quanto credevo un momento volete aver la bontà di farmi parlare a questo punto sollevò il cappellino rossiccio e osservando col più sincero stupore uno sguardo di tenero rimprovero della signorina squeers si ritrasse di pochi passi per esser fuor di tiro della bella soma e continuò dicendo mi dispiace molto veramente e sinceramente mi dispiace d'esser stato ieri sera la cagione di un dissidio fra di voi mi rimprovero amarissimamente ed esser stato così disgraziato da farvi bisticciare senza alcuna volontà da parte mia ve lo giuro e senza averci pensato in alcun modo bene ma questo certo non è tutto ciò che avete da dire esclamò la signorina price all'interruzione di nicola temo che vi sia qualche altra cosa balbettò nicola con un abbozzo di sorriso e guardando verso la signorina squeers non è la cosa più facile a dire ma la semplice menzione di una simile supposizione può darmi un'aria di presuntuoso pure me lecito di chiedere se questa signorina crede che io abbia concepito qualche insomma crede che io sia innamorato di lei delizioso imbarazzo pensava la signorina squeers ce l'ho tirato finalmente rispondi per me cara bisbigliò la meca se lo crede soggiunse la signorina price naturale che lo crede sì esclamò nicola con tale energia di voce da potersi scambiare un momento per un trasporto d'estasi certo rispose la signorina price se il signor nickelby ha intrattenuto qualche dubbio tilde disse con teneri accenti la signorina squeers facendosi rossa può rassicurarsi i suoi sentimenti sono ricam un momento esclamò nicola in fretta per piacere fatemi parlare questa è la più crassa e più assurda illusione il più completo il più solenne abbaglio che abbia mai preso commesso un essere umano io ho veduto la signorina appena cinque o sei volte ma se l'avessi veduta sessanta volte o se fossi destinato a vederla sessantamila sarebbe sarà precisamente lo stesso io non ho un pensiero un desiderio una speranza che si riferisca a lei tranne che non sia e dico questo non per offendere la sua suscettibilità ma per persuaderla del vero stato dei miei sentimenti tranne che non sia quest'unico oggetto caro al mio cuore come la vita di poter un giorno voltare le spalle a questo luogo maledetto per non mettervi mai più piede e non ricordarmene più se debbo ricordarmene che con orrore e disprezzo con questa dichiarazione particolarmente chiara e diretta che la veemenza della sua indignazione ed eccitazione seppe dettargli nicola non volendo o dir più nulla s'allontanò ma hai la povera signorina squirs quale collera quale irritazione quale rabbia non è possibile descrivere la rapida successione degli amari e furiosi sentimenti che le turbinò nel cervello rifiutata rifiutata da un istitutore un istitutore trovato per mezzo ad un annuncio con lo stipendio annuale di cinque sterline pagabili a periodi indefiniti e soddisfatto di dividere lo stesso cibo e lo stesso alloggio degli allievi e tutto in presenza di una piccola pettegola diciottenne figliuola d'un mugnaio che si sarebbe maritata nel termine di tre settimane con un uomo che l'aveva supplicata in ginocchio per averla al pensiero di una simile umiliazione ella si sentì realmente soffocare ma nel bel mezzo di quella indicibile mortificazione una cosa era chiara e cioè che essa odiò e detestò nicola con tutta l'angustia di spirito e la picciolezza di propositi degni ed una discendente della schiatta degli squirs e c'era anche un conforto e cioè che ogni momento tutti i giorni ella poteva ferire l'orgoglio di nicola pungerlo con un trattamento scortese con una offesa una privazione che non poteva mancare d'avere qualche effetto anche sull'essere più insensibile e doveva essere crudelmente percepita da uno con la suscettibilità di nicola attaccatasi a queste due riflessioni la signorina squirs se la cavò come meglio poté con l'amica e osservando che la temeva di dover rinunziare a nicola perché era un essere così strano e di carattere così violento si separò da lei e qui si può notare che la signorina squirs dopo aver fissato il termine delle sue affezioni o qualunque altra cosa potesse essere in mancanza di meglio che le rappresentasse su nicola nickelby non aveva mai una volta seriamente pensato alla possibilità che egli nella faccenda si potesse trovare di diversa opinione la signorina squirs credeva di essere irresistibilmente bella e si diceva che suo padre era capo di un istituto e nicola servo tutti argomenti questi adatti a farle concludere che il giovine si doveva sentire indubbiamente troppo onorato della preferenza che la gli dava la signorina non aveva mancato di riflettere inoltre quanto più gradita avrebbe potuto rendergli la sua condizione con l'essergli amica e quanto più spiacevole con l'essergli nemica e senza dubbio molti giovani meno scrupolosi di nicola avrebbero trovato comodo di incoraggiarla non fosse che per questa chiara ed evidente ragione però egli aveva pensato di regolarsi altrimenti e la signorina squirs si propose di vendicarsi vedrà disse la giovane irata quando si ritrovò sola in camera sua e sebbe ricreato lo spirito col dare qualche schiaffo a fib se non gli aizzo un po più la manna quando sarà di ritorno era quasi inutile farlo ma la signorina squirs fu fedele alla parola e il povero nicola per giunta al cattivo cibo al sudicio letto e all'esser costretto ad assistere a una monotona successione di squalli da infelicità fu trattato con la più triste mancanza di riguardi che la malvagità e la più sordida avarizia potessero consigliare ne era tutto vera un altro e più triste piano di maltrattamenti che gli straziava il cuore e quasi lo faceva mattire con la sua ingiustizia la sua crudeltà il miserrimo smaic dalla sera che nicola gli aveva parlato gentilmente nell'aula della scuola lo seguiva sempre dappertutto con un irrequieto desiderio di servirlo ed essergli utile prevenendo quei piccoli bisogni che la sua poca abilità lo metteva in grado di soddisfare e pago soltanto d'essergli vicino gli si sedeva accanto per ore e ore guardandolo intento in viso e una buona parola gli illuminava la faccia patita accendendola anche d'un fuggevole raggio di felicità si sentiva cambiato aveva uno scopo ora e questo scopo era dimostrare il suo attaccamento alla sola persona una persona estranea che lo aveva trattato non diciamo con bontà ma come una creatura umana su quel povero essere veniva sfogato tutto il rancore e il malumore che non si poteva sfogare su nicola tutte le più umili fatiche non volevano dire nulla smaic c'era avvezzo botte dategli senza ragione sarebbero state ugualmente cosa da non meravigliare poiché anche ad esse egli aveva fatto un lungo e triste noviziato ma non si tosto fu osservato che s'era affezionato a nicola il suo unico piatto mattina mezzogiorno e sera fu di staffilate schiaffi di schiaffi e staffilate squirs era diventato geloso dell'ascendente acquistato così presto dall'istitutore e la famiglia lo odiava e smaic pagava per entrambi nicola vedeva e stringeva i denti a ogni ripetizione di quei malvagi e codardi assalti egli aveva disposto per un programma di lezioni regolari da dare ai ragazzi e una sera mentre passeggiava su e giù nella triste aula scolastica col cuore così gonfio che quasi gli scoppiava pensando che la sua protezione e il suo contegno non avevano fatto che a crescere l'infelicità del miserabile il cui speciale abbandono era considerato da lui con pietà si fermò meccanicamente in un angolo buio dove l'oggetto dei suoi pensieri se ne stava seduto il poverino con tracce di lacrime recenti in viso si affannava penosamente su un libro gualcito sforzandosi in vano di venire a capo di una lezione che un fanciullo novenne non dotato di speciale abilità avrebbe facilmente appreso ma che per il mortificato cervello del diciannovenne straziato rappresentava un mistero disperatamente suggellato pure egli se ne stava lì tornando sempre pazientemente da capo sulla pagina non spronato da alcuna ambizione giovanile perché egli era il comune zimbello e di leggio anche degli ignoranti marmocchi che gli stavano intorno ma solamente ispirato dall'avido desiderio di far piacere al suo amico solitario nicola gli mise la mano sulla spalla non mi riesce disse l'abbandonata creatura guardandolo con triste delusione su ogni fattezza no no lascia stare rispose nicola il ragazzo scosse il capo e chiudendo il libro con un sospiro guardò vagamente intorno e chinò il collo sul braccio piangeva per amor di dio disse nicola in tono d'agitazione non lo posso vedere con me essi sono più crudeli che mai singhiozzò il ragazzo lo so soggiunse nicola sì ma per voi disse quel povero rifiuto per voi darei la vita essi mi vorrebbero uccidere sì mi vorrebbero uccidere starei meglio poverino rispose nicola scotendo tristemente il capo quando io me ne sarò andato andato esclamò l'altro guardandolo intento in viso piano soggiunse nicola sì ve ne andate domandò il ragazzo con un grave bisbiglio non so rispose nicola parlavo più con me stesso che con te ditemi esclamò il ragazzo sopplichevole o ditemi volete andarvene volete andarvene sarò costretto a farlo finalmente disse nicola o il mondo innanzi a me dopo tutto ditemi sollecitò smike il mondo è anche brutto e cattivo come qui il cielo ce ne scampi rispose nicola continuando nel corso dei suoi pensieri i lavori più duri e più umili che il mondo potrebbe darmi sarebbero felicità in confronto di ciò che bisogna durare qui non vi incontrerò mai più domandò il ragazzo parlando con insolita scioltezza e volubilità ma sì rispose nicola col desiderio di fargli piacere no no disse l'altro afferrandogli la mano dove io dove io ditemelo di nuovo ditemi dove io potrei trovarvi mi troverai rispose nicola con la stessa umana intenzione e cercherò di giovarti e di aiutarti e di non esserti cagione di nuove pene come ho fatto qui il ragazzo prese affettuosamente fra le sue le mani del giovane e portandosele al cuore disse un po di frasi tronche che non furono comprese ma in quel momento entrava squeers e smike si ritirò nel suo cantuccio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti